Sono una preghiera alla croce di Cristo, le parole di Papa Francesco, una sequenza di invocazioni nelle quali il pontefice ha condensato il male e il bene di cui artefice è l'uomo di oggi, simbolo dell'amore divino e dell'ingiustizia umana, icona del sacrificio supremo per amore e dell'egoismo estremo per stoltezza. Questo è anzitutto il legno in cui Gesù è stato inchiodato, ha detto il Papa, che così ha proseguito. O croce di Cristo, ancora oggi te vediamo nei volti dei bambini, delle donne e delle persone, siniti e impauriti che fuggono dalle guerre e dalle violenze e spesso non trovano che la morte e tanti pilati con le mani lavate. E croce, ha aggiunto il pontefice, sono anche i fondamentalismi e il terrorismo di seguaci di religioni che profanno il nome di Dio e lo utilizzano per giustificare le loro inaudite violenze, la compravendita di armi che alimenta le guerre, il latrocinio e la corruzione. E ha continuato il Papa identificando nella croce di Cristo che distrugge la casa comune, la solitudine degli anziani abbandonati, il disagio dei disabili scartati dalla società, poi i segni dell'amore senza fine. O croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nelle famiglie che vivono con fedeltà e fecondità la loro vocazione matrimoniale. E la via della risurrezione, quella delle persone semplici che vivono gioiosamente la loro fede nella quotidianità, dei volontari che soccorrono generosamente i bisognosi. La croce, insomma, mostra Dio che ama fino alla fine, per questo c'è da invocarla, perché ci insegna, ha concluso Papa Francesco, che l'alba del sole è più forte dell'oscurità della notte e che l'apparente vittoria del male si dissipa davanti alla tomba vuota, perché nulla può sconfiggere, oscurare o indebolire l'amore di Dio.